bella ragazzi e buongiorno oggi è apparso un nuovo mostro da abbattere quindi vi farò vedere la puntata di oggi per questo mostro intanto passiamo subito aiuta ad fare gli aiuti allora voglio salutare Yam voglio salutare Ragnaroth salutiamo anche Giulio e basta, questi due già salutati allora ragazzi, senza perderci in chiacchiere stiamo mandando praticamente l'attacco contro questo mostro cerchiamo di puntarlo così ve lo faccio vedere allora il mostro è questo ragazzi non si sa ancora che cosa è debole quindi alla fine io immagino che sia debole con gli agili quindi quelli che molti chiamano alati però vabbè non è tanto importante tanto alla fine il percentuale di danno è veramente basso allora, che cosa dà questo mostro? allora intanto vediamo che cosa dà interessante, quindi lo scrigno di materiale ornato dà tutti quelli che sono gli oggetti rari quindi è veramente interessante quindi praticamente questo sembrerebbe il più importante ottimo uno scrigno con tutte queste gemme quindi alla fine una di queste gemme sarà il contenuto di questo scrigno uno scrigno che contiene dell'oro acceleratori della ricerca ragazzi ottimo quello da tre giorni e poi vabbè ci sono tutti i mostri ok? allora che cosa dirvi ragazzi? bello quello del Trojan ragazzi allora noi stiamo andando praticamente all'attacco io ho utilizzato già tutta una marea di attacchi ho fatto praticamente un devasto quindi in sostanza vi faccio vedere soltanto questo di attacco poi andiamo insieme ad aprire tutti i bottini che ho aperto il mio consiglio è quello di conservarvi le energie proprio per quando escono questi mostri evento tra l'altro non mi ricordo come è che si chiama sto mostro andiamo a vedere come è che si chiama accumulatore ragazzi accumulatore bellissimo dai ok allora quello che consiglio sempre cioè quel consiglio quello che faccio io io faccio l'attacco per il massimo in modo tale da sbloccare tutta una serie di premi di range premi perché se facessi il colpo per uno magari entra nella prima fascia con i primi due bonus quindi io voglio praticamente aprire tutta la gamma di premi e almeno io credo che sia meglio colpire per il massimo che sia disponibile allora vediamo se siamo arrivati sì siamo arrivati perché non mi sembra ok ragazzi come potete vedere il per 24 ma non mi ricordo che cosa ho dato ma lo possiamo anche vedere allora io posso dare un massimo di per 24 ragazzi io ho fatto una strage prima ho sprecato quasi un milione di energie con questo mostro quindi andiamo ad aprire insieme allora intanto con un per 20 ragazzi ho preso in sostanza tutta una serie di di ottimi bauli ragazzi allora andiamo insieme ad aprirceli ragazzi sapete che sono anche abbastanza fortunato quindi allora apriamo quegli schifosi tra virgolette che non ci interessano questi non mi interessano allora io direi di andare ad aprire per allora vediamo quali sono i più buoni allora i più buoni sono questi come potete vedere ne ho 21 ragazzi quello delle gemme ne ho 533 ragazzi sono tantissimi e 717 della ricerca ragazzi non vedo l'ora di aprirla allora partiamo da quelli un po' più scarsi tra virgolette quindi apriamoci questi qua prima allora ottima la tossina corrosiva ok gargantua speriamo in un bel super oro l'ha beccato ragazzi e drider ne ho 101 ragazzi non sono pochi leggendario nucleo ardente ma non mi ricordo qual è il raro ma il anzi il raro è il cervello ragazzi ok questo scrauso cervello mutato ottimo forziere vediamo di beccare eh vabbè verde va benissimo ragazzi di quello raro tristo ragazzi ne ho 112 teschio e quello raro ragazzi ottimo e va bene così me ne sono avanzati 12 gioiello scuro del tristo da una velocità di viaggio non male scrigno del noceronto e qualche bella anima ragazzi vediamo un po' scusate la fiala va bene verde va benissimo benissimo zanna curva ragazzi succhia sangue è quello raro grifone ragazzi è andata abbastanza male col grifone alla nera alla nera è andata anche abbastanza male trojan ragazzi mi interessa il trojan progetto antico mi ha trattato veramente male allora andiamo ad aprire questo ok alla gelida ragazzi al cuore ok buono uno solo allora ragazzi allora per io direi andiamo ad aprirci subito quelli dell'oro che mi servono un po' meno ne ho 434 vediamo che cosa si trova allora è andata abbastanza una schifezza però va bene ancora tantissimi oh da 6 milioni di oro buono ottimo da 2 milioni 2 ragazzi siamo quasi agli ultimi ancora dell'oro ragazzi un altro da 6 milioni va benissimo direi allora adesso andiamo ad aprire quello delle ricerche degli acceleratori ne ho 717 speriamo in 3 giorni 15 ore va bene va benissimo continuiamo ad aprire vediamo un po' benissimo ragazzi continuiamo 2 da 3 giorni ragazzi ottimo 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 qua sono altri 3 giorni bella storia continuiamo ragazzi è tantissima roba ragazzi altri 5 giorni mamma mia è uno spettacolo altri 2 giorni qua veramente è tantissima roba siamo quasi arrivati ancora uno da un giorno da 3 giorni ragazzi ottimo e andiamo ad aprire ancora gli ultimi 17 di questi ottimo perfetto allora io adesso andrei a prendere quelli dei materiali rari ragazzi speriamo in qualche in qualche materiale oro ragazzi qua vi ricordo che all'interno anzi tra l'altro ci sono anche il raro del campione se mi da un bel raro del campione ragazzi è andata benissimo allora apriamoli boom un epico ragazzi ragazzi è andata abbastanza bene del campione non mi ha dato niente però abbiamo preso un cuore epico quindi a cuore ci è andata abbastanza bene beh ragazzi è andata abbastanza bene tra l'altro mi ha dato uno solo vabbè che possiamo volere allora adesso prima di aprire quelli delle gemme vediamoci le gemme che abbiamo ragazzi abbiamo 62.500 gemme così possiamo capire esattamente quante gemme abbiamo fatto andiamo ad impilare mamma mia ragazzi ok 2000 gemme tanta roba altre 2000 gemme tanta roba qua è andata abbastanza male però vabbè 77 da 50 vabbè è andata male 1000 gemme 200 gemme ragazzi guardate come sale il altre 2000 ragazzi questo colpo abbiamo fatto 5000 gemme solo qua ragazzi è andato veramente un bellissimo colpo mamma mia 106.000 gemme ragazzi avevo 65.000 gemme dai ancora ottimo ragazzi ancora 1000 gemme qua abbiamo abbiamo praticamente riempito 109.000 gemme ragazzi avevo 65.000 quindi sono 35.000 44.000 gemme abbiamo guadagnato ragazzi è andata veramente bene e ragazzi se il video vi è piaciuto like iscrivetevi e alla prossima ciao belli ciao ciao ciao